In questa seconda domenica del tempo ordinario la liturgia propone un brano del Vangelo secondo Giovanni. Quest'anno è l'anno di Luca, Giovanni non ha un anno liturgico a sé dedicato e quindi ogni tanto, anche negli altri anni liturgici, si legge il Vangelo di Giovanni. Perché leggiamo Giovanni? Perché leggiamo il brano delle nozze di Cana e le nozze di Cana sono sempre state associate all'inizio dell'attività di Gesù, all'inizio della manifestazione pubblica di Gesù e associate anche all'episodio del battesimo di domenica scorsa, all'episodio dell'epifania di due domeniche fa. E quindi in quest'anno liturgico abbiamo appunto in tre domeniche successive l'epifania, battesimo e nozze di Cana che fin dall'epoca patristica appunto sono state legate all'idea dell'epifania, della manifestazione di Gesù. Nel Vangelo di Giovanni questo, come viene detto proprio alla fine, è il primo dei segni che Gesù compì. E proprio così il Vangelo di Giovanni chiama quelli che noi chiamiamo un po' impropriamente i miracoli di Gesù, il Vangelo di Giovanni li chiama i segni. Il miracolo lo conosciamo, l'azione la conosciamo, Gesù si reca a questa festa di nozze a cui era invitata sua madre, si reca a questa festa di nozze con i discepoli e quando viene a mancare il vino interviene per mutare quello che c'è nelle anfore, cioè l'acqua, in vino. E' il vino più buono, come dice poi colui che si occupava di distribuire il vino agli ospiti del banchetto, il vino migliore che veniva lasciato di solito all'inizio e invece in questo caso venne servito alla fine. Non è tanto il miracolo in sé, il contenuto del miracolo a colpire in questo caso, è un miracolo abbastanza anche originale, nel senso che noi siamo abituati a vedere azioni potenti di Gesù che a favore di persone malate, a favore di indemoniati, a volte sono miracoli magari sugli elementi della natura che possono manifestare Gesù appunto nella sua potenza, nella sua grandezza. Questo è un miracolo del tutto originale perché appunto viene trasformata dell'acqua in vino, diciamo che non si fa del bene a nessuno se non marginalmente agli sposi che così possono continuare la loro festa senza difficoltà e senza problemi. Ma probabilmente il senso principale di questo racconto non è tanto appunto descrivere la capacità di Gesù di trasformare l'acqua in vino ma dare avvio alla manifestazione di Gesù nel mondo. Appunto il Vangelo di Giovanni lo mette proprio in evidenza nell'ultimo versetto dell'episodio quando dice questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Questa frase è molto importante per capire il senso del Vangelo di oggi. Anzitutto appunto l'inizio dei segni. Saranno diversi durante il Vangelo i segni, di solito si contano sette segni di Gesù, azioni potenti anche molto note nel Vangelo di Giovanni come la guarigione del Cecconate, la risurrezione di Lazzaro in cui Gesù si manifesta. Questo appunto lo dice il Vangelo fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù e egli manifestò la sua gloria. Questo è il primo frutto, il primo esito dell'episodio della manifestazione di Gesù. Appunto Gesù si manifesta, manifesta la sua gloria. Anche la parola gloria è una parola tipica del quarto Vangelo che accompagna Gesù fino alla fine. Anche la passione potremmo definirla gloriosa in Giovanni per certi aspetti. e quindi Gesù si manifesta al mondo. Ecco, nel primo capitolo del Vangelo, qui siamo all'inizio del secondo, Gesù aveva chiamato i primi discepoli. C'era stato quel bellissimo racconto in cui Gesù, seguendo Giovanni, chiama su due dei suoi discepoli che poi a cascata si chiamano l'un l'altro. Adesso Gesù, con il primo gruppo dei discepoli e seguendo appunto l'invito della madre, compie questo primo gesto. E per il Vangelo di Giovanni, tutta la vicenda pubblica di Gesù è una manifestazione della sua gloria. Gesù è il verbo di Dio, il verbo fatto carne. Il suo compito è manifestare Dio nel mondo, rivelare Dio nel mondo. E poi c'è un secondo effetto di questo racconto. Manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Il tema della fede è un tema importante in tutti i Vangeli, anche nel Vangelo di Giovanni. E qui appunto l'Evangelista ci racconta che di fronte al segno, la risposta adeguata da parte dell'uomo è quella della fede. Gesù compie un segno e i discepoli credono in lui. Fra l'altro questa frase, questo ritornello, tornerà altre volte, perché non è che la fede è conquistata una volta per sempre, per cui dopo questo momento i discepoli non hanno più dubbi. Più di una volta si dirà che i discepoli credettero in Gesù. Ma chiaramente questa frase sintetica con cui Giovanni conclude il suo episodio, questo episodio, è proprio significativa per farci interpretare correttamente l'episodio. Quindi ascoltiamo le nozze di cana, gioiamo anche noi insieme agli sposi, insieme a Gesù e i suoi discepoli e Maria che fanno festa. Ascoltiamo anche noi la frase che Maria dice, fate tutto quello che egli vi dirà. Ma soprattutto appunto cogliamo il valore che ha questo racconto, la manifestazione della gloria di Gesù, che porta alla fede nei discepoli e che porta appunto all'inizio dei segni e quindi all'inizio di questa vicenda di Gesù. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, questa domenica ascolteremo Giovanni, torneremo poi a Luca a partire da domenica prossima, anche Giovanni ci aiuta a partire, a ripartire. Siamo ancora all'inizio dell'anno ordinario, del tempo ordinario e quindi cogliamo con l'occasione che ci offre questo Vangelo per metterci anche noi a seguire Gesù e a scoprire quello che i Vangeli ci raccontano di Lui. Grazie a tutti.